clip veramente è difficile per me dire qualcosa in questa maniera però questa è tutta la mia vita io cos'altro ho nella vita solo voi cos'è che io ho fatto con la mia vita siete solamente voi è per questo che io veramente vi voglio vedere a tutti che tutti abbiate successo e che vi alziate vi sviluppiate correttamente io veramente spero ho la speranza che il creatore vi prenda e vi porta sulle sue ali e vi conduca al posto giusto vi amo le caim